ciao a tutti oggi prepareremo i biscotti cantucci il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa ingredienti sono farina doppio zero mandorle burro morbido lievito per dolci miele la buccia grattugiata del limone zucchero semolato sale e uova diamo il via alla ricetta iniziamo a mettere all'interno del boccale lo zucchero la buccia del limone grattugiato e le uova e andiamo ad amalgamare per un minuto a velocità 5 adesso andiamo ad aggiungere la farina il burro morbido il lievito per dolci pizzico di sale e terminiamo col miele andiamo a impastare il tutto per due minuti a velocità spica andiamo ad aggiungere le mandorle e facciamo impastare per un altro minuto a velocità spica nel frattempo preriscaldiamo il forno a 180 gradi il nostro impasto è pronto andiamolo a trasferire in una spianadoia dopo aver tirato fuori l'impasto dal bimbi andiamo a mettere un po' di farina su una spianadoia andiamo a prendere una parte e creiamo il nostro primo sfilatino adesso andiamo a posizionarlo su una teglia rivestita da carta da forno e continuiamo così con il resto degli impasti dopo aver steso i nostri impasti e averli posizionati su una teglia rivestita da carta da forno andiamo a infornare a forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti circa trascorsi 30 minuti usciamo i biscotti dal forno e lasciamoli intiepidire dopo aver fatto intiepidire i biscotti andiamoli a tagliare in diagonale dopo averli tagliati andiamo a infornarli a 140 gradi per 10 minuti i nostri biscotti sono pronti andiamo a impiattare biscotti cantucci grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti